Si chiama Hemophilus Influenza B, semplificato in HIV, ed è il germe che ha colpito il bambino di soli due mesi di Sant'Egidio alla Vibrata, attualmente ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona per meningite. Il piccolo, sottoposto a cuore antibiotiche come da prassi, non sarebbe in pericolo di vita, ma la notizia ha inevitabilmente generato preoccupazioni, come sempre quando si parla di meningite. L'HIV non sarebbe però mortale, salvo casi di pazienti con gravi patologie, come ha spiegato al nostro microfono il professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti e professore ordinario dell'Università d'Annunzio. È un germe che alberga nella maggioranza dei casi nella mucosa dei bambini e anche degli adulti. Fino agli anni 90 era forse la principale causa di meningite nei bambini, ma grazie alle campagne vaccinali l'incidenza di questo agente patogeno è per fortuna drasticamente crollata. Attualmente sappiamo che questo agente patogeno è non più un problema di sanità pubblica, ha un nome che richiama l'influenza ma non c'entra niente con l'influenza, come le dicevo è un gram negativo, è un batterio quindi che per fenomeni di tipo immunologico può slatentizzarsi e dare origine a una malattia appunto come la meningite. Professore, le casistiche parlano di un aumento, di un'incidenza di questo emofilus negli ultimi anni. Perché? Probabilmente anche l'emofilus rientra in questo calo di attenzione rispetto all'assoluta opportunità di vaccinarsi e quindi effettivamente in Italia dal 2011 al 2017 avevamo notato una maggiore incidenza rispetto agli anni precedenti dell'emofilus influenza. Chi si può vaccinare? Esiste uno schema di vaccinazione che si conclude entro il primo anno di vita. Attualmente è un vaccino obbligatorio quindi tutti i bambini nati vengono sottoposti obbligatoriamente a questo tipo di vaccinazione e quindi credo che occasioni come questa debbano essere assolutamente prese al volo per rilanciare un messaggio importante rispetto all'utilità delle vaccinazioni che vengono proposte dal piano vaccinale italiano.